Tutto pronto per la finale del Christmas Cup, si gioca qui al centro sportivo dei Ceriara di Sezze, la finale, primo e secondo posto tra Cincio Barda e Billy Bar. Ha chiamato in causa Forcina subito per Tasciotti, arriva anche il primo tiro, Bruckner per Billy Bar, gli soffia il pallone Consoli, se ne va da solo, prova a mettere pallone in mezzo e c'è il gol! Il vantaggio con Malandruccolo, Politi, c'è un cambio, Bruckner prova adesso la distanza, il tiro arriva dalle parti di Genuesi e direttamente sul portiere gira Politi, arriva Randa il tiro! Pericoloso, non ha capito, poi c'è il cabolgimento di fronte, c'è il gol del raddoppio Forcina, Cincio Barda in avanti di due eredi, Castaldi adesso il tiro ribattuto, ancora Tasciotti, calcio di punizione, se ne incarica Consoli per Cincio Barda, parte il tiro, la corsa caricata, la parata, Bruckner, Politi, all'indietro Genuesi, carica il tiro, la risposta di Ceccano in due tempi, Politori si gira, marcato da Consoli e non gli lascia a scampo, addirittura gli soffia il pallone, se ne va da solo, poi attende anche l'inserimento di Malandruccolo, proprio all'ultimo istante del servizio, si intromette Bruckner che allontana il pallone, adesso il tiro, il piattone da parte di Forcina, Bruckner, Politori, adesso vorrebbe provare la soluzione, addirittura prova lo spazio, il tiro, bellissimo, gol! si deve liberare dalla marcatura della D2 avversaria, addirittura il tiro di Genuesi, Mastrantoni, Bruckner, Politi, vicino a sé, il tiro, trova il palo, e ancora adesso, trova addirittura Mastrantoni, costretto ad arredrare, Bruckner, ancora Politi, si accentra, il tiro ribattuto da Mastrantoni, Malandruccolo, arriva di Morchio Forcina, ancora Malandruccolo, il tiro c'è la rete! il gol, piccolo spazio di campo, arriva Politi, è Bruckner, sotto rete, Politi, si accentra, carica il tiro, è il gol ancora, una volta dal centro, Pungelli, Forcina, Tasciotti, Malandruccolo, la finta con il corpo, si libera, il tiro, Ceccano, Politi, se ne va da solo, il tiro, c'è il pareggio! e Tasciotti, Randa, la palla messa in mezzo, c'è il gol di Robibero, la palla messa in mezzo, Genuesi, trovato pronto in mezzo, Robibero, il tiro, doppietta personale, se ne va intanto, Randa, con la testa! gol! Gelli se ne incarica, arrivato a Sciotti, il tiro ribattuto da Ceccano, veramente straordinario in questo intervento, e arriva il triplice fischio, finale a questo punto, Billy Barr recupera una partita strepitosa, vincendo questo confronto, questa finale per il primo e secondo posto della Christmas Cup